Il Presidente della Camera, Laura Boldri, ha detto che niente sarà più come prima. Yusva, from Senegal. Non c'è trippa per noi italiani, per cui è fatica che ci sia anche per queste persone che arrivano qua. Ci arriveranno sempre di più. C'è una bomba che sta esplodendo nel Mediterraneo. Mi chiamo Mohammed. Io vengo da Maurizio, Somalia. Nel centro di accoglienza sono 180 i palestinesi. Questo è un problema europeo, non solo italiano. Questi sono un pericolo. Fa niente che sei a Lampedusa. Sai ne vieni una sai. 3.800 sono. 3.000. Dentro questo barco tu senti sempre un rumore. Dici come questa nave voglio rompere. Se si rompe, si Lei che cosa fa qui? Vende i cd? Cerco di guadagnare qualche cosa proprio perché non c'è lavoro, qua in Italia non c'è lavoro Ti hanno sparato Secondo me è uno schifo, veramente, credimi, la politica mi fa vomitare Cioè, delle volte leggi il barbiere che è là a Montecitorio 300.000 euro l'anno Beh, con quelle teste lì, ma gli tagli, gli tagli anche il collo Io sotto, io con altre persone stavo Rischiacciato lì sotto Sì, sì Questa barca così e dopo vai così Io penso è finito In questo momento, in quel momento, non c'è nessuno che può aiutarmi Non c'è Non c'è Sì 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 Sì